Federico, il capitano, battere la capolista ha un sapore particolare, una vittoria straordinaria. Sì, guarda, abbiamo lavorato tutta la settimana per questa vittoria, se la meritano tutti, dirigenti, allenatori, giocatori, io penso che un lavoro di squadra lo stiamo portando avanti e questi sono i frutti, siamo tutti contenti e lo dedichiamo anche a questo meraviglioso pubblico che speriamo che continui ad esserci. Speriamo che domenica in casa ci sarà così numeroso sugli spalti di questo palazzetto. Sì, sì, guarda, è una carica in più per giocare, speriamo a tutti quanti qua. L'appuntamento è per domenica. Sì, grazie. Grande Federico.